Influenza e covid partita la nuova campagna vaccinale guerra in israele iniziative di solidarietà anche a pesaro segnalazioni da carpegna i servizi che mancano nell'entroterra conf commercio lancia il primo itinerario del mototurismo marchigiano il pesarese Santini nuovo direttore delle reti teatrali italiane Buona serata ben ritrovati su Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale di oggi oggi è giovedì 12 e ottobre che apriamo questa edizione occupandoci di salute oggi in tutte le marche infatti è partita la campagna autunnale dei vaccini anti-influenzali combinata ai vaccini anti-covid questa mattina quindi abbiamo incontrato Augusto Liverani che è il direttore provinciale alla prevenzione alle malattie infettive col quale abbiamo approfondito i rischi attuali di queste patologie e soprattutto se il covid va considerato ancora un pericolo allora vediamo che cosa ci ha risposto In tutta la regione Marche è partita oggi 12 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale che per il secondo autunno può svolgersi in maniera combinata alla cosomministrazione del vaccino anti-covid a somministrare i vaccini saranno i medici di medicina generale i pediatri di libera scelta le farmacie che aderiscono alla campagna e i centri vaccinali presenti in provincia come quello pesarese di Vianitti dove questa mattina abbiamo incontrato il dottor Augusto Liverani che supervisiona la campagna vaccinale per l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata per determinate categorie che sono state individuate dalla circolare ministeriale che sono i soggetti di età maggiore o uguale ai 60 anni i bambini che hanno un'età compresa tra 6 mesi e 6 anni poi tutti i soggetti che hanno delle condizioni patologiche di rischio che li espongono a forme particolarmente gravi di influenza gli operatori sanitari e sociosanitari gli addetti a servizi pubblici di primario interesse i soggetti che lavorano a contatto con animali e i donatori di sangue Quella dell'influenza è una campagna vaccinale che si scontra con un pericolo spesso sottovalutato L'influenza rimane un grandissimo problema in sanità pubblica è associata a elevati tassi di mortalità e morbidità le forme gravi colpiscono soprattutto i soggetti anziani i soggetti con patologie croniche di base le donne in gravidanza e i bambini molto piccoli ed è classificata tra le prime 10 in Italia è classificata l'influenza e la polmonite ad essa associata tra le prime 10 casi di morte noi in Italia ci sono almeno 8.000 decessi all'anno correlati all'influenza E se l'influenza rischia di apparire pericolo sottostimato sul Covid alleggia invece la sottovalutazione di un pericolo che sembra archiviato suggeriscono il contrario un recente rialzo dei contagi per quanto ha impatto ospedaliero nettamente più contenuto rispetto al periodo pandemico Comprendo che per il vaccino Covid c'è una certa stanchezza vaccinale ma è fondamentale che le persone fragili gli anziani, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza i soggetti con condizioni patologiche e rischio si sottopongano a richiamo con il vaccino aggiornato contro il Covid-19 perché è una patologia che ormai si trova allo stato endemico e i ricoveri e le forme gravi riguardano essenzialmente queste categorie La cosomministrazione dei vaccini anti-Covid e anti-influenza è raccomandata dall'azienda sanitaria in quanto consigliata per categorie di persone pressoché sovrapponibili Da questo punto di vista è molto importante anche la comunicazione che proviene dagli operatori sanitari e cioè i medici in medicina generale quindi i medici di fiducia devono essere formati su questo aspetto sul fatto che la cosomministrazione è una pratica raccomandata che non produce effetti collaterali maggiori rispetto alla somministrazione singola e che ha soltanto dei vantaggi vantaggi di proteggere più malattie in poco tempo e di ridurre le liste d'attesa Ed ora cambiamo argomento Dopo gli attacchi terroristici e cattura di ostaggi che Hamas ha compiuto in Israele il gruppo della Lega di Pesaro presenterà nel prossimo Consiglio Comunale di lunedì un ordine del giorno per testimoniare vicinanza alle popolazioni israeliane Il primo firmatario dell'ordine del giorno urgente è il consigliere Andrea Marchionni conoscitore di Israele dove ha numerose amicizie Domani alle 17 in piazza del popolo di Pesaro è invece organizzata una manifestazione di solidarietà verso il popolo palestinese organizzata dal collettivo Bagolaro di Urbino Manifestazione che vuole fare luce sui precedenti atti violenti commessi da Israele nei confronti di questo popolo Incidente stradale Ieri sera alla periferia di Urbino dove il conducente di una lancia Ypsilon ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un grosso albero che si trovava nelle vicinanze della carreggiata Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre una donna rimasta incastrata nell'abitacolo sul lato passeggero L'ambulanza intervenuta ha poi trasportato la donna al pronto soccorso per accertamenti I carabinieri di Mondavio e Terre Roveresche hanno denunciato in stato di libertà una donna per ricettazione e in debito utilizzo di carte di credito A fine settembre un'anziana di Mondavio aveva infatti denunciato il furto di una borsa lasciata all'interno della propria macchina in sosta Nel frattempo l'autrice del furto aveva però effettuato decine di acquisti in negozi della zona attraverso la carta bancomat della derubata il tutto attraverso la modalità contactless per importi che non richiedessero l'immissione del codice PIN I carabinieri attraverso dichiarazioni di testimoni e dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza sono riusciti a identificare e denunciare la responsabile Ed ora ci spostiamo a Pesaro e ci occupiamo di uno dei cantieri più importanti della Bicipolitana quello che sta avanzando tra Vismara e Torraccia unendo i due quartieri attraverso la creazione di un tunnel che sarà scavato sotto la ferrovia È uno dei cantieri strategici della Bicipolitana perché unirà la rete ciclabile pesarese al progetto della ciclovia adriatica e perché di fatto collegherà a portata di pedale due quartieri altrimenti scollegati come Vismara e Torraccia Avanza infatti il cantiere che prevede la costruzione di un tunnel ciclopedonale fra le due zone che dalla ciclabile di via Lambra e via Liri di Vismara sfocerà a Santa Colomba dopo aver scavato una galleria sotto la rete ferroviaria Il cantiere è stato affidato è partita già la prima parte dei lavori abbiamo fatto la verifica bellica che non ha evidenziato nessuna criticità il progetto adesso è in mano a ferrovie perché trattandosi di un sottopasso ferroviario dobbiamo avere l'ok da loro rispetto ai tempi di realizzazione perché non è che dipende dal comune quando scavare sotto la ferrovia noi dobbiamo aspettare da RFI l'autorizzazione ci devono dare un tempo in base a quelli che sono i cantieri che hanno in piedi lungo la tratta adriatica presumibilmente sarà tra aprile e giugno i lavori noi nel frattempo intanto però iniziamo e prepariamo il manufatto che poi andrà ad essere posizionato sotto la linea ferroviaria diciamo che il lavoro più importante è quello sotto la linea ferroviaria anche se i tempi dovrebbero essere attorno le due settimane però sono quelli che hanno bisogno di un'autorizzazione più importante dobbiamo capire anche quelli che sono i costi che ci chiederà RFI per il rallentamento dei treni ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni come sempre l'invito è quello di mandarci foto video e messaggi attraverso whatsapp al nostro numero che vedete in sovrimpressione oggi ci occupiamo di una segnalazione che ci arriva direttamente da Carpegna e che riguarda una delle tante mancanze di servizi che purtroppo si riscontrano nelle aree dell'entroterra costringendo i cittadini a faticose e onerose trasferte vediamo fra i problemi cronici delle aree interne marchigiane c'è l'assenza di alcuni servizi pubblici che costringono a ripetute migrazioni caso emblematico quello segnalato a Rossini TV dalla città di Carpegna dove usufruire della motorizzazione civile rischia di costringere a ripetute odissei di chilometri mia figlia ha compiuto 14 anni quindi chiaramente vuole prendere la patente del motorino nelle famiglie come sappiamo le spese sono molto ingenti di conseguenza io e mio marito abbiamo deciso di farle prendere il patentino da privatista specialmente la teoria perché la differenza di prezzo era enorme un'azione che trova un primo scoglio in un portale telematico di complicato accesso per poi passare a ripetute trasferte a Pesaro per poter dare l'esame bisogna andare la prima volta la prima volta a presentare la pratica la seconda volta a presentare a chiedere la data dell'esame la terza volta a dare l'esame allora con tutti gli strumenti che ci sono tecnologici online questa cosa non si può fare noi da Carpegna dobbiamo fare 120 km tre volte quindi gasolio, gomme il rischio che c'è sulla strada le ore di lavoro perse per poter prendere una patente del motorino e io sto parlando della teoria perché dopo ci sarà la pratica quindi non abitiamo non tutti abitiamo in riva al mare bisogna che trovano un sistema per venirci contro perché così non è possibile come sapete questi sono giorni di TTG Eventi TTG Rimini una fiera dedicata appunto al turismo Confcommercio Marche Nord è presente e ha presentato la prima guida dedicata agli itinerari moto turistici delle Marche e allora in questa prossima intervista ascoltiamo Amerigo Varotti in merito a questa novità realizzata all'interno del progetto degli itinerari della bellezza quest'anno Confcommercio ha deciso di realizzare il primo itinerario del moto turismo delle Marche uno strumento per i tour operator per gli operatori turistici che non c'era e quindi abbiamo deciso di realizzare un itinerario che riguarda tutta la regione Marche con 15 percorsi da farsi in moto e in questa guida raccontiamo cosa si può vedere oltre ovviamente la traccia del percorso da fare in moto cosa si può incontrare lungo il percorso quindi quali sono gli aspetti enogastronomici culturali, ambientali che caratterizzano questi 15 itinerari sono tre itinerari per ogni provincia quindi per la prima volta come Confcommercio facciamo uno strumento che riguarda l'intera regione questo ci ha riempito di grande soddisfazione quest'anno basti dire che nel Valentino Day di Tavuglia sono andate letteralmente a ruba tutte le copie che avevamo portato da dare in omaggio ai tanti appassionati di Valentino e di motociclismo 500 copie sono andate letteralmente a ruba e così abbiamo una richiesta fortissima che viene da tutta Italia il nostro sponsor quest'anno per questa iniziativa ha una ramificazione territoriale importante a livello nazionale e quindi da tutte le regioni italiane ci vengono richieste di questo materiale e vi ricordiamo che per conoscere le ulteriori novità legate agli itinerari della bellezza potete vedere lo speciale realizzato Rossini TV che andrà in onda mercoledì 18 ottobre alle 21.20 ed ora cambiamo di nuovo argomento perché parliamo di Gilberto Santini che dal 2006 è il direttore di AMAT associazione della rete teatrale marchigiana e che ora è stato anche eletto all'unanimità anche nuovo presidente di Arti associazione reti teatrali italiane Arti rappresenta la globalità dei circuiti teatrali regionali che coordinano su tutto il territorio nazionale gli spettacoli di prosa danza musica e circo l'associazione conta 600 teatri per circa 8.000 rappresentazioni all'anno un prestigioso incarico per Santini e un riconoscimento al lavoro svolto da AMAT in questi anni esattamente oggi 12 ottobre avrebbe compiuto 88 anni il compianto Luciano Pavarotti in questa data il comune di Pesaro ha annunciato che realizzerà una scultura dedicata al grande tenore legatissimo alla città di Pesaro l'opera verrà posizionata davanti al teatro Rossini luogo simbolo della capitale italiana della cultura l'idea è quella di una statua di Pavarotti posizionata su una panchina nella quale pesaresi e turisti potranno sedersi e ammirare il teatro Rossini al fianco del maestro vi ricordiamo anche che da domani pomeriggio a domenica sarà eccezionalmente aperta al pubblico Villa Giulia che per anni fu la residenza pesarese di Pavarotti la villa incastonata fra Baia Flaminia e San Bartolo sarà infatti uno dei luoghi aperti nelle giornate FAI d'autunno sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 18 in Piazza del Popolo saranno presenti i volontari della protezione civile di Pesaro in occasione dell'appuntamento Io non rischio, buone pratiche di protezione civile appuntamento in cui i volontari illustreranno alla cittadinanza le buone pratiche da svolgere in caso di scosse sismiche o alluvioni vi segnaliamo anche che sabato 14 ottobre alle ore 17 il regista nonché collaboratore di Rossini TV Giorgio Ricci presenterà all'Alexandre Museum Palace Hotel di Pesaro il nuovo documentario dedicato alla figura del pittore Ciro Pavisa prodotto grazie alla collaborazione di Grazia Calegari che sarà presente all'evento L'appuntamento è a ingresso libero Ed ora andiamo a parlare di nuove attività che nascono sul nostro territorio le immagini infatti che vi mostriamo ora si riferiscono ad una nuova attività inaugurata a Pesaro nei giorni scorsi si tratta dello showroom di casa a Iudi Essenza dell'abitare l'attività dei titolari Angelo ed Emanuele a Iudi ha contribuito alla riqualificazione della storica segheria legnami alberghetti presente a Pesaro nella statale adriatica Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci era presente al taglio del nastro di un'attività votata all'interior design di qualità dai parquet all'arredo bagno fino ai cammini si tratta del terzo showroom di casa in provincia dopo quelli già presenti a Calcinelli e Marotta E allora davvero in bocca al lupo a questa nuova attività adesso invece andiamo a parlare di sport dopo la convincente vittoria al debutto con la L84 Torino è vigilia della seconda giornata di campionato per l'Ital Service Calcio a 5 Pesaro che domani alle 20.30 affronta la prima trasferta della stagione per la squadra di Scarpitti sarà subito un test d'alta classifica al cospetto della Feldi Eboli campione d'Italia in carica dal Calcio a 5 passiamo al basket la VL giocherà sabato sera in trasferta con Brindisi ne abbiamo parlato con il responsabile tecnico Walter Magnifico che analizza il momento che stanno vivendo i biancorossi dopo due sconfitte su altrettante uscite di campionato la Carpegna prosciutto basket Pesaro non si fascia la testa sullo zero in classifica che l'avvio di Torino non fosse una passeggiata era cosa nota al pari dei valori morali e tecnici di una VL che inducono il brand ambassador biancorosso Walter Magnifico a guardare avanti con fiducia analizziamo le due partite parlando diciamo della forza del nostro avversario che è nettamente superiore a noi per fisicità e talento tecnico comunque nonostante questo a Brescia ce ne siamo andati vicini a Venezia naturalmente abbiamo giocato con un po' di difficoltà però l'inizio del campionato non è assolutamente facile perché nemmeno a Brindisi e nemmeno fra tre partite a Milano ho scaffato in casa però i ragazzi lavorano lo staff è attento a cercare di migliorare le cose e vediamo come andrà da sabato prossimo a Brindisi momento delicato per Pesaro idem per Brindisi che sabato alle 20.15 arriva al Palapentassuglia dopo due K.O. con Reggio Emilia e Tortona avranno le motivazioni pari un po' come le nostre naturalmente giocando in casa hanno un leggero vantaggio rispetto a noi però dobbiamo concentrarci su di noi sul recuperare bene tutti i ragazzi perché anche Scott che ha stretto i denti ha voluto giocare domenica scorsa con Venezia ma ha preso una leggera distorsione anche se da oggi dovrebbe ricominciare ad allenarsi però sono sempre questi piccoli intoppi che ti impediscono di poter lavorare con serenità e con continuità durante la settimana però c'è la massima attenzione e collaborazione di tutti quindi andiamo a Brindisi con la fiducia che ci possa portare a disputare una partita di carattere concreta e proprio Walter Magnifico sarà questa sera ospite nel nostro insieme a Canestro seconda puntata ecco qui vi aspettiamo quindi alle 21.20 perché assieme a Walter Magnifico ci sarà anche Mauro Procaccini e entrambi saranno intervistati dalla nostra Elisabetta Ferri mi raccomando partecipate scriveteci su Whatsapp oppure nella nostra diretta Facebook perché potrete vincere i biglietti per le prossime partite e poi andiamo ancora avanti perché stasera subito dopo la prima edizione del nostro telegiornale andremo alla scoperta dell'atelier Meri Sposa un'eccellenza artigianale che si trova nella nostra provincia e poi alle 21.10 spazio all'approfondimento direttamente dal TTG 20 di Rimini quindi stasera vedrete tutte le interviste che il nostro conduttore e operatore hanno raccolto nella giornata di oggi e vi ricordiamo anche che domani ritorna la nostra rassegna stampa quindi vi aspettiamo in diretta alle 7.20 sul canale 80 in diretta sulla nostra pagina Facebook il consiglio è anche di scaricare la nostra applicazione perché così potete vederci da tutte le parti del mondo grazie per essere stati con noi adesso vediamo come sarà il tempo ai prossimi giorni intanto vi auguro buona serata